Buongiorno Anna Maria Bernini, Fabio Massimo Castaldo, benvenuti alla Gora Estate. È rimasta con noi la professoressa Fornero che ha ascoltato anche l'ultima risposta dei Fitussi e sulla quale poi torniamo rispetto al tema Europa. Sa Castaldo, ha sentito quello che ci ha detto il professor Fitussi, guardate che gli olandesi non sono frugali per niente, forse va fatta sentire questa cosa anche a livello di Parlamento Europeo. Guardi, io sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto il professor Fitussi, sono anni che lo denunciamo e le dirò di più. La proposta che è stata avanzata dalla Commissione Europea è estremamente ambiziosa e noi l'abbiamo più volte sostenuta e anche rilanciata come Parlamento Europeo. Oggi invece l'intero processo decisionale è sotto scacco perché in Olanda l'anno prossimo ci sono le elezioni e siccome il primo ministro Rutte ha una rivalità che appartiene a un altro partito di centrodestra del PPE, giocano a chi è ancora più rigido nel bloccare questa proposta perché ne stanno beneficiando dal punto di vista elettorale. Questa veramente è una stordità tenuto conto proprio di quello che diceva il professor Fitussi, ovvero il fatto che l'Olanda è un paradiso fiscale di fatto, ha delle politiche così aggressive che erodono la base fiscale degli altri paesi. Addirittura è stato calcolato che le sue politiche insieme a quelle degli altri paradisi fiscali europei ci potrebbero costare fino a 23 miliardi di euro. Mi dice questa cosa Castaldo che è molto corretta, cioè che la campagna elettorale di quel paese entra nelle dinamiche europee, però me lo dice come se noi fossimo estranei a questa logica, nel senso che anche noi tante campagne elettorali le abbiamo vissute in questo modo e tante dichiarazioni, no? Questa è un po' una pecca di tutti i paesi europei, nel senso che ovviamente, come si dice scherzando qui a Bruxelles, c'è sempre un'elezione nazionale e addirittura in alcuni casi anche regionale o degli Stati federati, sappiamo quanto in passato anche persino le elezioni dei lender tedeschi hanno influenzato l'agenda politica europea. Però qui c'è un fatto nuovo. Che dice a noi siamo stati appesi alle elezioni del Molise per mesi. Mi permette di dire una cosa, che qui c'è un fatto nuovo però, che siamo di fronte alla pandemia più grave degli ultimi cento anni, una pandemia che ha messo in ginocchio le nostre economie europee, di fronte alla quale serve uno shock keynesiano anticiclico molto forte, che può essere rappresentato appunto dal Next Generation Recovery Fund. E adesso stiamo bloccando 750 miliardi di investimenti per riforme che possono dare un alto moltiplicatore, quindi stimolare l'occupazione anche nel nostro paese, nei paesi europei, specialmente in quelli più colpiti, è perché qualcuno ci sta speculando dal punto di vista elettorale. Di fronte alle decine di migliaia di morti di questa pandemia, ecco questo lo ritengo davvero inaccettabile. Non si possono fare paragoni col passato. Voglio andare da Castaldo che ora mi aiuta ad aprire il capitolo MES, vero Vicepresidente? Perché stamane Gualtieri dice mai escluso l'uso del credito del MES, resta l'altro tema che voi continuate a dire di no. E nel frattempo che arriva Recovery Fund dove li troviamo i soldi? Sono due cose completamente diverse, perché la linea pandemica del MES prevede un vincolo di spesa ben definito. Cioè quei soldi possono essere utilizzati solo per le spese sanitarie, dirette o indirette, ma legate all'emergenza Covid. Non si possono utilizzare per aiuti alle famiglie, non si possono utilizzare per qualsiasi tipo di riforma economica, non si possono utilizzare per gli aiuti alle imprese. Sono veramente due concetti diversi e questo dibattito del MES esiste solo nel nostro paese. Io ribadisco con molta chiarezza due cose. Noi non vogliamo usare questo strumento per motivi di ordine giuridico ed economico. Quelli giuridici che non sono stati rimosse tutte le condizionalità esistenti nella fase di rientro, basta vedere l'articolo 14 del secondo regolamento del SUPEC per quanto riguarda i controlli post-programma o l'articolo 13 del trattato istitutivo del MES per quanto riguarda il sistema di allerta rapido che danno rilevanti poteri al bordo del MES, il motivo economico è il rischio dell'effetto stigma. Uno Stato che dovesse accedere potrebbe con questo in qualche modo palesare di fronte ai mercati la sua incapacità o enorme difficoltà a finanziarsi in modo ordinario sui mercati mettendo titoli di debito e quindi in qualche modo stimolare un potenziale attacco speculativo. Non lo vuole nessuno in Europa, guarda caso anche Spagna, Portogallo, Grecia, tutti questi paesi che inizialmente si erano detti abbastanza interessati hanno subito fatto un passo indietro, saranno tutti pazzi nel continente evidentemente forse fanno... Il studio perché prima Alessandro Sanzoni diceva che noi in qualche modo nella logica europea parliamo a nome per conto della Francia, Francia che ovviamente parla anche per conto suo, tipo Emmanuel Macron. Esatto, sì perché lo ripetiamo, questo è un giorno importantissimo, inizierà il Consiglio europeo in nodo da sciogliere come abbiamo detto, questo recovery fund, trovare l'intesa. Macron arrivando al Consiglio UE ha appena dichiarato che è in gioco il nostro progetto europeo, sarà un Consiglio europeo eccezionale ma in realtà la notizia è questa, perché? Perché sta parlando Rutte, premier olandese, abbiamo raccontato finora lo scetticismo dell'Olanda, ha appena dichiarato, vedo poco meno del 50% di possibilità di raggiungere un accordo sul recovery fund entro domenica, queste le sue parole, è ancora possibile raggiungere un compromesso a questo vertice, ma aggiunto ci aspetta un duro lavoro, queste le parole di Rutte. Meno del 50% Alessandro ha fatto perdere un euro, eh? No, non ancora, io ho detto, lo gioco perché ha un'alta redditività, il 50% è buono. E' un rischio che corri. Saldo, torno da lei, ma le chiedo di essere rapido perché voglio andare a vedere, visto che hanno raggiunto il sitin di protesta dei lavoratori della Whirlpool, la nostra Antonella Palmieri con una delle lavoratrici dello stabilimento di Napoli, oggi come detto è una giornata di sciopero, vedevo che seguiva con attenzione quello che diceva la professoressa Fornero, diceva che non è vero che le condizionalità rischiano di essere le stesse, le chiedo come fa a dirlo non avendo contezza di quale saranno le condizionalità del recovery fund, perché è una discussione ancora aperta, cioè il rischio è che siano più forti, l'opportunità è che non ce ne siano per nulla, però non c'è certezza su questo. No, ma attenzione, sicuramente c'è la certezza che non ci sarà un'ingenza del board del me stesso sulle modalità di rientro di un eventuale prestito, così come accade invece, l'ho citato in punto di diritto, perché ancora devo trovare nelle varie trasmissioni una persona che smentisca gli articoli che io cito, che non sono stati disattivati neanche dalla famosa lettera di Gentiloni Domboschi, che comunque non poteva farlo, perché nella gerarchia delle fonti del diritto di sicuro non è una lettera che può disattivare l'articolo di un regolamento o di un trattato. Ma infatti, Cassaldo, l'ho detto io prima che lei l'ha citato in punto di diritto, il tema è che non ci sono articoli da citare sulle condizionalità del recovery fund perché sono tutte da scrivere, per questo le dico che c'è l'opportunità che non ci siano e il rischio che siano più forti, perché se poi deve decidere il Consiglio europeo, devono decidere gli Stati membri, poi ti siedi al tavolo, c'è Curs, c'è Rutte e lì ti ricondi, no, ciao. Guardi, nella proposta della Commissione europea, in realtà il Consiglio non avrebbe neanche avuto voce in capitolo sull'approvazione dei piani di riforma da livello nazionale. Questa è una cosa che sta provando Michel, il Presidente del Consiglio europeo, a reinfilare nel negoziato e secondo me è un gravissimo errore, perché io mi fido molto di più comunque di una valutazione della Commissione che di avere di nuovo un mercanteggiamento a fini elettorali del Consiglio nell'imporre strane valutazioni o alleanze di Paesi, come le abbiamo viste finora, l'asse frugale contro l'asse espansivo, nel valutare persone di progetti che dovrebbero essere valutati in modo oggettivo. C'è una possibilità, diciamo, molto alta. Grazie ai nostri ospiti, ricordo, la terra siamo noi, l'ultimo lavoro di Cardo Bocca. Di cui abbiamo ampiamente discusso. Vi sono grato di questo. Torneremo a parlarti, ovviamente. Grazie ai nostri ospiti, ci fermiamo qui, torniamo lunedì con augura estate. Grazie ai nostri ospiti, ci fermiamo qui.